E bentornati alla dose settimanale di Vitamina EDC, il nostro integratore di felicità. Come al solito iniziamo dagli oggetti che porto un po' in giro durante la settimana per scoprire anche qualche novità. Qui davanti a me ho la Nightcore NTP40, una matita meccanica in titanio. Beh, la mia passione per i portamine e le matite meccaniche mi accompagna dai giorni dell'università. Mi è sempre piaciuto avere un po' la possibilità di fare i calcoli e correggere, prendere appunti con la precisione di una penna, chiaro, ma anche con la versatilità di una matita. E oggi Nightcore ci offre questa matita meccanica tactical in titanio e anche tattica. Perché dicevo tattica? Comunque, beh, è chiaro che all'occorrenza può essere usata anche come strumento da difesa. È bello accuminato ed è bella tosta. Bisogna subito capire che una matita meccanica è buona tanto quanto è buono il meccanismo all'interno. E Nightcore per questo si è rivolta ai migliori, i tedeschi della Schmitt, che hanno costruito questo inserto portamine. Eccolo qui Schmitt. Ora rimettiamolo a posto che ci serve. È una matita che accoglie mine o micromine da 0,5 mm, da mezzo millimetro di diametro, a una clip sempre in titanio removibile con due torx. Che figo avere le torx sulla matita. Dovesse servirvi in cartoleria, nelle cartolelie ben fornite, trovate anche delle mine colorate. Io porto questa settimana il mio blocchettino Moleskine e la NTP40 li porto insieme perché sto lavorando a qualche progettino, ho bisogno di fare qualche schizzo, ho bisogno di rielaborare i miei appunti, ho tutto quello che mi piace. E ragazzi rullo di tamburi perché arriva Citizen su Backpacko e lo fa con tutta la sua tecnologia ed esperienza nipponica nei segnatempo. Citizen, beh, sono produttori di orologi dall'inizio del Novecento e fin da quando hanno fondato l'azienda non hanno mai smesso di innovare. Per capirci ragazzi, negli anni hanno raggiunto tutta una serie di primati che hanno fatto la storia degli orologi. Negli anni Sessanta, quando gli orologi, beh, in teoria non erano poi così resistenti, legano i loro pezzi a delle boe dietro un transatlantico, gli fanno fare la traversata oceanica e questi arrivano in perfette condizioni. Poi producono l'orologio più piatto al mondo e lo fanno ben due o tre volte, cioè recuperano il loro stesso record. Adesso ne hanno uno che è sotto al millimetro. Hanno anche prodotto l'orologio più piccolo al mondo. È il primo orologio con un profondimetro elettronico, senza dimenticare il primo orologio satellitare. Capite ragazzi che con questo curriculum non poteva certo mancare di arrivare su Backpacko.it un tale produttore di gioiellini. E diciamolo, Citizen produce diversi orologi al top della gamma, che hanno anche dei prezzi molto importanti. Come è giusto, perché sono bravi e fanno delle cose eccezionali. Per fortuna però non mancano anche le alternative di qualità con un prezzo un po' più basso e accessibile ad ognuno di noi. Come ad esempio il modello che vi sto presentando oggi, della serie Urban. Iniziamo dal movimento che è un po' il cuore del segnatempo. Si tratta di un quarzo con tecnologia proprietaria di Citizen chiamata EcoDrive. Quando parliamo di movimento EcoDrive ci riferiamo ad un sistema che raccoglie la luce, la luce non per forza del sole ma anche la luce dell'ufficio, anche la luce dello studio di Backpacko, e la trasforma in energia, quindi funziona un po' dappertutto. All'interno ha un accumulatore, che non è una batteria qualsiasi, è un accumulatore di Citizen e consente un'autonomia di diversi mesi, anche senza la luce, no? Rimane al buio ma per diversi mesi funzionerà con la carica residua. In pratica non c'è da cambiare la pila per anni. Vi dico solo che ho letto di EcoDrive che funzionano benissimo anche dopo 40 anni di vita. È vero che è della linea Urban ma ha uno spiccato look militare, un po' come un orologio da campo o d'avventura. È un solo tempo che riporta un datario con il giorno della settimana e la data alle ore 15. Il quadrante è nero, le lancette sono tutte a spada, quella delle ore e quella dei minuti sono anche fluorescenti, quindi ben visibili al buio. I numeri arabi circondano il nostro quadrante per la massima chiarezza. Sul quadrante esterno, poi, è riportata anche una bussola. Non significa che l'orologio ha una bussola digitale o qualcosa del genere, ma che vi permette di utilizzarlo per orientarvi come una bussola così come si faceva una volta. Studiare questi sistemi basilari e l'utilizzo di un orologio analogico come bussola in caso di emergenza, beh, è un dovere di ogni avventuriero. Nella parte più esterna del quadrante leggiamo anche i minuti numerati che arrivano intorno fino al 16. Il quadrante è in acciaio, il fondello è a vite per una tenuta stagna fino ai 100 metri, vetro minerale ovviamente e cinturino in tessuto tecnico, è estremamente comodo e durevole. Con questo modello diamo il benvenuto a Citizen su Backpacko e presto vedremo altre bellissime novità. E chiaramente su Backpacko.it trovate già un'ampia selezione di orologi tutti per voi. Avete notato che in questo periodo le persone sono tutte un po' nervosette? E allora ho pensato di rinforzare l'EDC con un dispositivo di difesa personale come la SP Palma Defender. Ho scelto questo piccolino, ne esiste anche una versione più grande, lo sapete bene, il Key Defender e tutte le varie cartucce di ricarica o quelle da allenamento. Ma ho scelto il Palm Defender perché è più piccolo e mi permette di agganciarlo alle chiavi proprio come un portachiavi semplici da tenere in tasca. Beh, questo fa parte di uno di quegli oggetti EDC che noi speriamo davvero non ci serva mai ma che se ci serve, beh, speriamo di averlo con noi. E come torcetta EDC, sapete, non può mancare mai, ho scelto la Nightcore Tube 2.0 una delle torcette da portachiavi che mi ha salvato più volte da situazioni scomode. Ragazzi, prima di tutto è piccola e arriva in ben dieci colori che state vedendo qui a schermo. Io le metto sempre queste dentro alle borse, alle pouch, perché non occupa nessuno spazio. È super leggera ma vi permette magari di rovistare alla ricerca del picchetto perduto la sera quando state montando il campo. Insomma, è davvero comoda da usare pure come cursore delle zip all'interno degli zaini. Ha un LED a bulbo esposto, quindi fa una luce molto ampia di circa 100 gradi di ampiezza. Ma qui dentro, ragazzi, in questa Nightcore Tube 2.0 ci sono 58 ore di autonomia e una gittata massima di 25 metri fino a 25 lumens di luminosità. Dicevo, pesa meno di 10 grammi. Questa non la sentite proprio. Ecco, parliamo anche di questa cosa qui, mi piacerebbe condividerla con voi, perché spesso le torcette piccole EDC hanno magari delle batterie non ricaricabili e uno si trova ad usarle anche meno spesso del dovuto perché le batterie sono comunque costosette o una noia da trovare, da sostituire, va svitato, va sistemato. Insomma, non è proprio pratico. Qui carica USB direttamente sulla torcetta, vi basta dove l'ho messo un power bank, eccolo qui, come questo, vi basta un power bank qualsiasi per ricaricare con un cavetto la vostra torcia, dallo sportellino, senza alcun problema. E c'è un'altra cosa che riguarda le torce di piccole dimensioni. Magari molti di noi hanno in tasca anche una torcia full size, una bella torcia palmare, come la MH12 Pro. E allora finisce che queste le usiamo un po' meno. Che succede però quando una torcia viene dimenticata nello zaino, dimenticata alle chiavi chissà per quanto tempo? Succede che si autoscarica per le correnti parassite, che sono queste correnti parassite. Ma per farla breve una torcia come questa ha un controllo elettronico, ha sempre un circuito e il circuito è sempre attivo aspettando che noi schiacciamo il pulsantino e decidiamo quello che vogliamo fare con la nostra torcia. Ecco che ci sto giocando tutto il tempo, adesso impazzisce, ma eccoci qua. Quindi questo circuito è sempre in attesa del nostro pulsantino, ma rimane sempre attivo, quindi piano piano si scarica. Questo succede nelle torcette da due soldi. E vi ricorderete però che nel secolo scorso le cose erano diverse e le torce non si autoscaricavano. Questa è una Varta, beh non è del secolo scorso, ma l'idea è quella, ha la sua batteria e ha una lamella che apre proprio il circuito, escludendo la batteria. Quindi ha due condizioni, o è alimentata o non è alimentata. La lampadina qui, tra l'altro fichissima, ma ormai la luce è diventata troppo poca per noi. E così come le torce LED necessitano molto spesso di una, soprattutto queste con un pulsantino, di un circuito sempre attivo, deve essere un buon circuito. Dimenticate i problemi di autoscarica con la Tube 2.0, perché qui abbiamo l'Advanced Power Cut-Off Technology, che quindi ragazzi per farla breve, rimane carica 365 giorni. Le modalità di luminosità sono quattro. Abbiamo la bassa potenza, poi l'alta potenza, ok, e l'illuminazione momentanea a livello alto, se tengo premuto, e anche, una cosa che vi farà piacere sapere, una regolazione senza livelli, vedete come aumenta mano a mano, e posso bloccarla quando ho risolto. Quindi insomma, piccoletta sì, ma fa il suo. Tra l'altro, altra preoccupazione delle torce piccoline è quella di perderle, magari perché vicino alle chiavi subiscono abbastanza tiraggi e pressioni, e maltrattamenti vari. Ma, qui abbiamo un gancetto doppio da 35 kg di resistenza. Oh ragazzi, 35 kg, ci riportate la spesa a casa con questa torcetta. Ragazzi, ovviamente oggi è anche il giorno per comunicarvi che le Nightcore Tube 2.0 sono disponibili su Backpacko.it, beh, di tutti i colori, fantastiche. Queste sono da collezionare, altro che. Come portafogli o portacarte, HeliconTex e DC Mini Wallet. Questo, ragazzi, è semplicemente un portacarte meraviglioso. Costruito tutto in cordura, guardiamolo insieme. Ebbè, all'interno, beh, era chiuso con del velcro, è chiuso con del velcro, questo per evitare varie aperture accidentali. Mi basta semplicemente aprirlo così. Avete un lato dove entrano diverse schede in questo modo, diciamo, libero, e un altro lato dove sono un po' più incastrate, però vengono fuori senza problemi. Ha bellissima questa apertura che entra tutto così e poi lo ficcate qui e rimane un po' più bloccato. Magari le carte di credito, le cose un po' più serie, uno se le mette bene al posto. È fatto tutto in cordura, vi dicevo, all'interno nylon ripstop, si blocca qui con il suo velcro e riporta. Qui il loghetto di Helicon, come siamo abituati, è un loghetto in silicone, fantastico, e una cinghietta in Aipalon. Questa può essere utile per legarci una torcetta, qualcosa, anche semplicemente per legarselo al collo o fissarlo in qualche modo in determinate situazioni. E neanche a dirlo, ragazzi, arriva di tutti i colori di Helicon. Sono tantissimi, non credo neanche siano tutti, ma se volete guardarveli con attenzione, sapete già dove andare, su backpacko.it. Questo è un portacarte, ultimamente mi sto davvero trovando bene con i portacarte, c'è sempre più la possibilità di pagare ovunque, con la carta di credito, con il bancomat, e quindi mano a mano perdono importanza, sia i contanti che tutti quei bigliettini e note e robe e assegni, no, gli assegni ci piacciono ancora, da tenere in portafogli. È come lama, ragazzi, Kabar Dozier Hunter. È un coltellino presente da un po' su backpacko, ci è sempre piaciuto tantissimo. Ho scelto il foliage green con lama nera rivestita. Mi piace molto questo coltello perché è leggero, è sottile e fa tutto quello che vi aspettate da un coltellino di Kabar. Tra l'altro, disegnato da Dozier e non si discute. Clip reversibile, così come anche la vite Thumbstad che ho usato per aprirlo. Se fossi mancino sposterai tutto, ora mi faccio male perché non ho più spazio. Lunghezza lama 76 mm, comodissimo EDC, dicevo molto leggero, comunque spessa 3 mm la lama, è il profilo drop point. Acciaio house 8, questo va benissimo per un coltellino così, per richiuderlo fate attenzione, non rifatelo a casa, ma li chiudiamo così, si apre, si chiude con una sola mano, con un po' di pratica. Super promosso, lama EDC per tutti i giorni. Guancette in Zaitel, sono disponibili tantissimi colori, li state vedendo a schermo, ed è disponibile anche una versione mini, un po' più piccola del Dozier. Un'altra cosa importante, beh, pesa solo 65 grammi. Insomma, coltellino EDC che fa davvero comodo. Bene ragazzi, questo era il mio EDC per questa settimana, è stata anche l'occasione per vedere insieme qualche nuovo prodotto. Io vi ringrazio per essere stati con me e vi ricordo che la prossima dose di vitamine EDC arriva sempre sabato alle 14. E se non volete perdervi neanche uno dei prossimi contenuti, beh, schiacciate la campanella qui sotto dopo esservi iscritti al canale. È gratuito, è comodo, ed è facilissimo. Se questo video vi è piaciuto, condividetelo con altri appassionati di EDC e desiderosi di integrare la propria felicità. Alla prossima ragazzi! 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 Alla prossima ragazzi!